2023 ad oggi, non ho mai potuto visionare il video stesso. Avrebbe consentito un intervento disciplinare verso gli eventuali responsabili. Le chat esistono, c'è addirittura il mio video mentre cado. All'uscita di scuola, i ragazzi si erano recati nel corridoio prima del tempo. Nello spintonarsi per gioco, uno di questi mi è venuto addosso con il suo zaino e quindi per il forte colpo allo sterno mi sono accasciata. Non c'è stata nessuna presa di posizione, né un consiglio di classe straordinario, né tantomeno nulla, perché è stato, ripeto, catalogato come un incidente in cui un ragazzo distratto mi è venuto addosso. La mia foto e tutta la caduta era presente su delle chat dedicate. Erano delle pagine in cui si fanno delle challenge, mi hanno spiegato. Entra la vicepreside in classe e mi dice che non posso stare lì e che devo tornarmene a casa perché sono spesa dal lavoro. Io avrei usato molestie verbali a sfondo sessuale nei confronti di due minori. E in attesa di capire come si evolveranno le indagini della Procura di Latina sul presunto video della prof che potrebbe essere vittima di un caso di cyberbullismo, pochi giorni fa l'ennesimo colpo di scena. La donna ha trovato sulla sua automobile queste scritte che suonano come una minaccia. Allora, c'è una novità. È arrivato un cartello, un biglietto di minacce a questa professoressa. Giovanna, a te. Che tipo di minacce? Sì, buongiorno Eleonora. Questa storia sta diventando un'odissea, ormai la stiamo seguendo da giorni, da settimane in tutti i suoi aspetti e anche in questo ultimo sviluppo che c'è stato proprio pochi giorni fa dopo la nostra ultima diretta. La professoressa che si trovava latina con una macchina che tra l'altro è molto riconoscibile perché è una macchina bicolore, è la macchina con cui andava a scuola e quindi che probabilmente tutti insomma conoscono anche a scuola, ha trovato proprio sul cofano questa scritta. Che cosa c'è scritto e che cosa ha fatto professoressa? Immagino che lei abbia asporto subito denuncia. Buongiorno a tutti, buongiorno dottoressa Daniele, grazie per questo spazio. Sono desolata di dover essere qui ancora una volta a raccontare le brutture. Comunque questo accadeva un paio di giorni fa quando la mia auto è rimasta in panne in un quartiere abbastanza periferico della città e avendo anche la batteria del telefonino a scarico perché le cose avvengono sempre con una sorta di concomitanza, mi sono recata a piedi nel bar più vicino per chiamare casa e chiedere soccorsi per i cavi della batteria della mia auto. A ritorno con mio cugino munito di cavi abbiamo trovato sul cofano della mia auto questa scritta con delle letterine adesive appiccicate su un cartoncino in cui c'era scritto a morte infami. Naturalmente la prima cosa che ho fatto è stata fare una foto, mandarla al mio avvocato che mi segue con cura e attenzione e spogge denuncia. E alla televisione allora? Infami? Non si sa, è infami, è un plurale, non credo che loro usino un plurale maiestatis, non lo so adesso. Se questa cosa è un atto emulativo, io chiaramente ho fatto denuncia contro i gnoti come è giusto che sia. Non ho idea, non sto accusando nessuno, dico soltanto che sta degenerando magari anche un atto emulativo da parte di qualche altro ragazzino che vuole sentirsi protagonista di Gomorra o di Marefuori. Adesso non so dire. So soltanto che comunque questa storia mi sta recando non poco stress, sarei un ipocrita a mentire, a far finta di essere serena e mi sta calgionando anche molta preoccupazione nei miei familiari perché insomma sapere che una persona esce in pieno giorno alle ore 13 e 30, neanche a dire la sera, in un quartiere e trovare questo cartello non fa piacere a nessuno. Professoressa, dove l'hai trovata? Tipo le multe, tipo multe sul parabrezza sotto il tergicristallo. Sulla tua macchina, sull'automobile? Sulla mia macchina. Quindi il sospetto che ci è venuto anche parlando insomma con l'avvocato, con la polizia è che mi avessero seguito perché pare molto strana la coincidenza per cui io mi allontano dalla mia auto massimo mezz'ora per fare questa telefonata di soccorso e a ritorno trovo questo biglietto. Quindi o è una coincidenza che passavano di lì oppure l'ipotesi più inquietante è che io venga seguita. Quindi in questi giorni sto evitando di uscire con la mia macchina, sto prendendo una serie di accorgimenti che mai avrei immaginato nella vita di dover fare, visto che faccio l'insegnante e non sono due settimane. Ma questa indagine, questa indagine come sta procedendo? I carabinieri hanno fatto sapere qualcosa? Lei è finita in una chat? Sono cinque, sarebbero cinque. E' finita in una chat? Sì, una challenge video in cui io vengo ripresa mentre vengo spintonata appositamente con rischio chiaramente di danni fisici molto più rilevanti di quelli che abbia portato. Ed è una classica modalità di sfida che è molto in auge di moda tra virgolette tra gli adolescenti italiani. Quindi il fenomeno, mi piacerebbe sentire il parere della dottoressa Parsi che io stimo tantissimo, è veramente inquietante perché qui non si ha più rispetto il confine tra il bene e il male e rispetto della vita, la morte, la vita, nulla. Professoressa, il preside sostiene che questo video non è stato mai registrato, che non esiste. Dobbiamo anche dirlo perché noi abbiamo sentito la scuola, abbiamo sentito il preside per capire come mai non aveva preso i problemi, ma anche lui dice che questo video non esiste. Giovanna, mandiamo il preside, però facciamolo sentire, scusami, questo direttore scolastico, che dice questo video che non l'ho mai visto. Il marito ai continui riferimenti al video che ritrarrebbe la docente mentre cade a terra dopo essere stata colpita da uno zaino, posso affermare che dal mese di gennaio 2023 ad oggi, ossia da quando la stampa locale ha iniziato a fare riferimento a tale video e alla sfida social che adesso sarebbe sottesa, non ho mai potuto visionare il video stesso. pur avendolo cercato e richiesto in diverse circostanze. Solo la visione del video infatti avrebbe consentito un intervento disciplinare verso gli eventuali responsabili. Auspico che le indagini in corso restituiscano a tempo debito notizia certa sull'esistenza o meno di tale immagini. Allora, professoressa Parsi, il preside dice, io questo video non l'ho mai visto, se avessi saputo se questo video fosse stato registrato. Dalla parte abbiamo la professoressa che invece dice che fra l'altro è stata sospesa per un motivo ancora diverso su quale poi entreremo magari quando abbiamo informazioni maggiori. La professoressa dice, sono stata chiamata dai carabinieri, mi hanno detto che sono dentro un'indagine perché dei ragazzi si sono messi d'accordo a fare dei gesti aggressivi nei confronti dei professori per prendere i punti in questo gioco online. Va bene? È un loro challenge, no? È un gioco? Ok. Allora, professoressa chiede da prof a prof. La signora Elisa, noi abbiamo dato un nome di fantasia, un cappello, una cosa insomma per, come dire, cercare di rendere la meno riconoscibile possibile. Ma chiede come mai si sta superando questo limite? Che cosa sta accadendo? Perché si arriva addirittura a fare dei giochi con delle persone? In più c'è questa minaccia perché si fosse appena collegato adesso, vedete una minaccia che è arrivata sull'automobile della professoressa in diretta con scritto quello che vedete benissimo, in cifra chiare e tonno. Tu mi devi, come sempre, permettere di rispondere ingoblando il problema anche per rispondere alla professoressa. Qui il problema non è soltanto gli allievi che arrivati a questo punto e la professoressa e le chat. Il discorso è la scuola. La scuola è la seconda agenzia educativa. All'interno della scuola ci deve essere, che deve diventare in prospettiva, si spera, ma chissà quando, come per prevenire gli alluvioni, un centro culturale polivalente aperto dalla mattina alla sera, dove ci sia un'equipe antropo, psico, medico, socio-pedagogica che faccia prevenzione. Perché se siamo arrivati a questa aggressione qui c'è una storia dietro. E i ragazzi, come gli insegnanti, come i genitori, devono avere la possibilità di confrontarsi tra loro, di essere formati in eccellenza, di essere sostenuti, perché i ragazzi arrivano da famiglie, arrivano da territori, portano il contributo della famiglia in cui vivono, del territorio in cui vivono e di tutto, scusate, e qui sarò durissima, di tutto quello che acquisiscono a livello virtuale. Voi avete matto mai caso a quello che la vecchia televisione, i programmi generali o quello che c'è sul virtuale di violenza, di aggressione, di gioco disperato, viene propinato a questi ragazzi. I ragazzi quando crescono hanno un cervello come spugni, sin da quando sono piccolini, assorbono immagini. Contate quante volte, guardando soltanto delle trasmissioni televisive, di programmi normali, c'è un atto per cui si tira fuori una pistola e si spara, si dà una coltellata, si dice una battuta ignobile, non la solita parolaccia, meglio parolaccia che pallottole. In questo caso invece ci sono le pallottole, ci sono gli insulti, ci sta un atteggiamento verso la vita talmente grave e talmente privo di empatia che il gioco è acquisire immagini, fare dei gesti eccetera, riprenderli, umiliare e sentire che le proprie umiliazioni subite le puoi passare a qualcuno che in quel momento ha paura. Io dico a questi ragazzi, a questi insegnanti e dico a questi genitori, è nostra, è grande la responsabilità di formarci e di prevenire tutto questo. Non ci può essere gli insegnanti contro gli allievi, gli allievi con i genitori contro gli insegnanti, gli insegnanti contro i genitori. Bisogna fare, sono due agenzie educative, bisogna fare unità e bisogna trovare tutte le possibilità e gli investimenti perché fare, per fare in modo che la scuola diventi il punto di riferimento. La possibilità, ultima cosa, il preside non ha trovato il video eccetera, ma io credo che la professoressa non si sarà inventata questo video e non credo che ci siano state delle cose da non analizzare per far cambiare le faccende, allora facciamolo se possibile. Andiamo a fondo per capire perché dei giovani ci sono organizzati contro un insegnante e perché bisogna fare un discorso in questo momento così doloroso. Tanto guarda, con la professoressa la storia la seguiamo, ormai Elisa ti ho promesso che non ti abbandoniamo, per cui ci siamo, ci saremo anche in questa settimana. Mi sarei augurata di non essere abbandonata magari in una pizzeria piuttosto che raccontare i miei guai a tutta Italia, anche perché detesto il ruolo di vittima, quindi mi sento vittima ma non sono vittima, cioè nel senso che io sono molto combattiva. Oggi avrei potuto star bene a casa e piangere, ma sono qui, sarei stata anche a volto scoperto, solo poi ho pensato, ho messo in protezione me stessa magari qualche gesto emulativo da parte di qualche adolescente. Evitiamo di aggiungere roba a roba, però se fossi per me sarei a volto scoperto perché io non ho paura. Ecco, questo sia chiaro. Io sono arrabbiata, io sono delusa dalla scuola che non mi ha protetto, nonostante gli avvertimenti e le mail che io mandavo al mio preside quasi ogni settimana per monitorare la situazione in quella classe difficile. Ha sottovalutato, adesso ha un atteggiamento quasi da San Tommaso, vuole vedere per credere, quindi mette in dubbio addirittura la parola di una procura che sta indagando e questa cosa è anche molto offensiva nei confronti delle autorità. Però non entriamo nel merito, io non ho paura, quindi dico a coloro i quali hanno fatto il cartello che avete perso semplicemente tempo perché io non ho paura. E più mi attaccate più forza mi date, perché io sono una combattente e l'ho preso dalla mia famiglia, questo che ringrazio. Grazie Elisa. Ma fai in chiusura? Lei deve avere paura solo dell'imbecilità e di null'altro. Però qua il discorso è sempre lo stesso. Però abbiamo paura di tutti qui perché l'imbecilità purtroppo è stata sicuramente illuminata, mi farrebbe. Era una triste battuta. A proposito di studenti, tanti le mandano anche dei messaggi di solidarietà. Sperta che se è bella, ne volevo citare due. La grande solidarietà dei miei ex allievi e delle miei ex colleghe dell'alta scuola, con cui ho trovato veramente una famiglia emotiva, è un aneddoto di ieri bellissimo. Questi orecchini li stavo acquistando ieri a un mercatino dove ero con delle amiche. L'artigiana che l'ha fatta, un ex docente in pensione, mi ha riconosciuta grazie alla vostra trasmissione, ma gli ha regalati come portafortuna. Saluto a me. Qualcosa di buono lo facciamo allora. Qualcosa di buono lo facciamo. L'importante è farle, poi al resto ci penserà il signore. Maffei. In un secondo resta il fatto che io catalogo questo accadimento, lo catalogo fra quelli di violenza contro le donne, per quello che insisteremo e non ci fermeremo mai e le saremo sempre accanto. ci ho detto, chi non ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, ed è evidente a chi mi sto riferendo, ebbene lasci quel posto. Vabbè, vediamo, questo non possiamo saperlo. No, 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 io parlo di coraggio, di assunzione, di responsabilità. Noi non possiamo prendere delle posizioni. Nella maniera più assoluta. Detto bene la professione, stateci pensate alla magistratura, noi raccontiamo storie, dopodiché non esprimiamo giudizi. Per questo non ho fatto nome. In generale, chiunque non abbia il coraggio di assumersi le responsabilità, lasci quello spazio. C'è tanta gente che l'assume la responsabilità. Grazie. Allora, grazie a tutti. Maria Rita Parsi e Santa Rita da Cascia. E Santa Rita da Cascia. Viva Santa Rita. E sogniamo che faccia miracoli. Grazie a tutti.